Ben ritrovati, inizio di autunno e ci facciamo una carrellata delle nostre belle promozioni di fianco a me la Suzuki Swift, continua la promozione che è appena diciamo così partita 3.600 euro di promozione, altri 3.000 se avete un discorso di rottamazione euro 0, 1, 2 arriviamo a 15.900 per la Swift con la versione top hybrid 1.200 con il cambio manuale abbiamo anche la variante del cambio automatico e se ci abbiamo anche il 4x4 Swift modello completamente rinnovato a inizio dell'estate abbiamo il 1.200 hybrid in terza generazione, versione top con anche i sistemi di sicurezza ADAS di livello 2 che tradotto vuol dire che abbiamo la sicurezza certificata già pronta con le normative più moderne che abbiamo sul mercato rinnovato da un paio di mesi anche Suzuki Vitara con la motorizzazione 1.400 con il motore a 48V e abbiamo anche la possibilità di avere il 1.500 con il 140V, quindi le due possibilità di ibrido versione molto più completa con l'estetica appunto più bellina sulla frontale, sull'interno abbiamo lo schermo a 9 pollici, su tutta la gamma Suzuki non c'è obbligo di finanziamento ma abbiamo la possibilità di seguirvi in ogni vostra esigenza anche S-Cross rigode degli incentivi e gode delle promozioni qua di fianco abbiamo la versione appena rinnovata, non abbiamo fatto nemmeno ancora il lancio parliamo della versione con aggiornamenti GSR2, quindi i sistemi ADAS di livello 2 ancora più completi l'altra novità sempre su S-Cross è che la versione top prende il monitor a 9 pollici con il sistema wireless per entrambe le versioni, con il controllo della stanchezza che appunto non è più solo un calcolo fatto dai sistemi diciamo di bordo ma proprio c'è un controllo visivo tramite una camera e tramite un infrarossi grazie a tutti grazie a tutti vi invito a venireci a trovare, potete contattarci per un test drive sul sito, sui social tramite il telegram telefono 0522 30 39 60 che è anche il nostro numero di WhatsApp. Di fianco a me la Suzuki Swift con l'arancione che è il colore che fa la promozione dei 15.900 euro con appunto incentivi e rottamazione. Un grazie e un arrivederci nel prossimo appuntamento. Grazie a tutti.